Questi che sono stati evidentemente giudati fuori da questa procedura e non giustamente hanno fatto una semplice richiesta di accesso agli altri. Signori, l'accesso agli altri è tutelato dalla Costituzione da leggi dello Stato e da Consaggine Stato, intanto il Ministero. Con a capo il nostro Ministro che in questo agente è in evidente conflitto di interessi